Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore mi ha fatto conoscere quanto non gli piaccia un'anima che parla troppo. In una tale anima non trovo riposo. Il chiasso continuo mi stanca e in quel chiasso l'anima non distingue la mia voce. Le suggestioni che in ogni momento ci giungono dalla società dei consumi sono frutto del rumore incessante e della mancanza di una vera e profonda riflessione. Dai Vangeli sappiamo che in varie occasioni Gesù si appartava dai Suoi discepoli e seguaci per restare a lungo da solo con se stesso, con il Padre e con lo Spirito Santo. Erano tempi per recuperare la pace profonda e disporsi a prendere qualche importante decisione. Impara anche tu ad osservare e gustare ogni giorno qualche momento di silenzio, esteriore e interiore. La tua coscienza si affinerà e tu capirai sempre meglio che Dio col suo soffio vitale dimora in te ed è presente in tutto. Quanto più profondo sarà il tuo silenzio, tanto maggiore sarà la tua crescita spirituale. All'inizio potrà risultare difficile e persino doloroso, ma se perseveri ti sentirai inondare da nuova vita e dal desiderio di lodare il Creatore. Sperimenterai come ogni cellula e ogni parte del tuo corpo riflettano la bellezza di Dio. Attraverso il silenzio diventerai più sensibile e tuttavia meno suscettibile, poiché Gesù con la Sua misericordia saprà renderti ogni volta più forte. Signore, amante del silenzio, ti ringrazio perché mi cerchi per restare un po' di tempo tutto solo con me e parlare al mio cuore. Aiutami a difendermi con più determinazione dai rumori assordanti che mi aggrediscono, che io sappia evitare le conversazioni vane e superficiali e quando mi intrattengo con gli altri, il mio parlare sia come incenso che si eleva alla tua presenza in forma di adorazione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La benedizione di Gesù vi preceda, vi accompagni e vi segua perché ogni cosa che fate porti l'impronta del suo ti benedico. Io vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore.